Maestà, Altesse Reali, Distinte Autorità del Regno del Marocco, Membri del Corpo Diplomatico, Cari Amici Marocchini, Assalamualaikum. Sono felice di calcare il suolo di questo Paese ricco di molte bellezze naturali, custode di vestigia di antiche civiltà e di simone di una storia affascinante. Desidero anzitutto esprimere la mia sincera e cordiale gratitudine a Sua Maestà, Mohamed VI, per il suo gentile invito e per la carorosa accoglienza che a nome di tutto il popolo marocchino mi ha poc'anzi riservato, in particolare per le cortessi parole che mi ha rivolto. Salah 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 Challenge Grazie a tutti 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 Grazie a tutti